Vietnam 2017, la città di Ho Chi Minh, l'hotel El Agde ci ospiterà per una notte. La città di Ho Chi Minh, l'hotel El Agde ci ospiterà per una notte. La città di Ho Chi Minh, l'hotel El Agde ci ospiterà per una notte. La città di Ho Chi Minh, l'hotel El Agde ci ospiterà per una notte. La città di Ho Chi Minh, l'hotel El Agde ci ospiterà per una notte. L'hotel El Agde ci ospiterà per una notte. E come potete vedere, la moto è il mezzo più usato in tutto il Vietnam. L'hotel El Agde ci ospiterà per una notte. Visitiamo un museo di resti di guerra. Nell'aprile del 1975, persa la guerra, gli americani abbandonavano il paese, lasciando sul campo tutte queste armi. Purtroppo non fu così per le bombe. Quelle le fecero scoppiare tutte. Qualche anno prima, anche i francesi lasciarono i loro ricordini. Qui siamo al porto sul fiume Saigon, dove ci imbarcheremo per una cena lungo il fiume. Inizia La fortuna carne Inizia Zeca Ed ecco la nostra giunca, la perle dell'Orient. Ed ecco, la perle dell'Orient. Ed ecco, la perle dell'Orient. Ed ecco 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 l'Orient. Ed ecco la perle dell'Orient. 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 e la perle dell'Orient. Ed ecco 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 la perle dell'Orient. ecco la perle dell'Orient. Grazie a tutti. Grazie a tutti.